Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la giostra. Troppa violenza per il mondo cavalleresco della giostra. Sono in molti a pensarlo dopo gli episodi che sono avvenuti durante il corteo storico davanti al Teatro Petrarca. Senza quanto avvenuto sulla lizza, i danni di Tommaso Marmorini, a giostratore, è stato lanciato di tutto sui fatti, indaga la Digos. Girano da ieri sera sul web un paio di video che riprendono i tafferugli per usare un eufemismo tra quartieristi durante il corteggio storico. La scena si volge davanti al Teatro Petrarca. Da dove si è scoppiata la miccia che ha fatto esplodere il tutto non si sa. Di certo si vedono sostenitori di Porta Crucifera vestiti, prendere anche una lancia, quasi a volere infilzare i competitors, soprattutto quartieristi di Porta Santo Spirito. Scene da Far West che hanno fatto indignare tutto il mondo della giostra con i rettori e i capitani dei quartieri avversari a ripetere in coro che questo no, non è lo spirito della giostra e che no, la violenza non è il solito colore. Non quando manda le persone all'ospedale, come è successo ieri, non quando gli sfottò sfiorano anche in maniera pesante le bocche dei bambini che da grandi avranno imparato che l'aggressività, la rabbia e le male parole sono il modo giusto per sostenere le proprie idee e i propri colori. In piazza poi sempre i figuranti Cruciferini si sono resi protagonisti di un altro brutto episodio, al giostratore bianco-verde Tommaso Marmorini che scendeva al pozzo per correre la sua carriera su un cavallo esordiente. Peraltro è stato gettato di tutto, dalla sabbia alle scarpe e ad altri oggetti. Il cavallo terrorizzato è stato calmato dalla bravura del giostratore che non si è scomposto e naturalmente dalla freddezza di Martino Gianni che ha spostato il cavallo verso la parte meno rumorosa della piazza. Troppa violenza non fa bene alla giostra, non fa bene allo spirito di festa e cavalleresco della manifestazione, non fa bene ai cavalli verso i quali vengono spese parole di amore salvo poi dimenticarle per fare rumba. La Digos sta indagando sugli episodi avvenuti davanti al Petrarca, i quartieri estranei chiedono che venga fatto rispettare nei fatti quanto si afferma ai tavoli dell'ordine pubblico o che vengano prese pesanti sanzioni, ma sul serio questa volta. Chi sale e chi scende? L'analisi delle carriere dei giostratori della 146esima edizione della giostra del Saracino. In alto senza dubbio i cavalieri del quartiere di Porta Sant'Andrea, ma Gian Maria Scortecci si conferma il migliore della piazza. Va in archivio la 146esima edizione della giostra del Saracino con Carlo Farsetti in postazione di commento proprio in occasione domenica 1 settembre della giostra. Facciamo il punto chi sale e chi scende? Direi Gian Maria Scortecci era già lassù, se possiamo ha sfondato le nuvole, il cielo è andato ancora più in alto, bellissima carriera, ci ha provato a spezzare la lancia e ha colpito un centro perfetto. Abbiamo purtroppo un Elia Cicerchia invece che è andato naturalmente asceso, ha avuto dei problemi con il cavallo, ha avuto dei problemi anche durante la settimana, non è riuscito tanto a correggerli. Anche se la giostra poi in realtà, scusami, la carriera che ha fatto in giostra non era male di quel cavallo. Passiamo a Porta Crucifera, un Lorenzo Vanneschi in netta crescita, nonostante le due carriere lente, lì è un problema più di cavallo che di lui e anche la seconda carriera è stata molto condizionata dal cavallo che non avanzava. Da quello che ho visto io per ora, poi li riguardano meglio, sembra proprio che questo cavallino è neanche inciampato, ma dietro ha perso come se il nodello gli avesse ceduto. Stessa cosa devo dire per Gabriele Innocenti, anche se non è arrivato al punto, però rispetto a giugno è migliorato, è molto migliorato. Quindi un po' in crescita anche lui, deve lavorare molto secondo me sull'impostazione, perché non ha un'impostazione che gli permette di arrivare al 5 facilmente. Sant'Andrea era un po' la grande novità con questi nuovi binomi? Sì, una novità, ma due super campioni, questo da prima che arrivasse Martino, erano due ragazzi che facevano 5 a cadere. Chiaro, con la guida di Martino si sono ancora fortificati, si sono fidati di lui e dello staff tecnico nel cambio di cavallo. Toro Seduto, che tutti lo aspettavano al Varco e gli altri quartieri in particolar modo, invece è andato benissimo, ha avuto quel disturbo, non l'ha neanche scalfito. Scalfito, è un cavallino che fa le carriere più veloci, più come piacciono a me, anche da vedere, sono riuscito ad andare al punto, quindi in crescita tutti e due. Porta del foro? In giostra gli è mancato quel capello, perché poi alla fine se andiamo a vedere i punteggi è proprio millimetrico, tanto più che Tallorino, ho saputo stamani che ha il piede ingessato, insomma, quindi con la caduta un po' ha subito e magari non era al 100%. Davide Parzi, che a me mi sembrava un 5%, lo rivedremo a febbraio, lui stesso diceva che era 5%, comunque li metto in su un più anche a loro. E adesso ci spostiamo a Montevarchi dove c'è stata tensione durante le feste del perdono, le polemiche e proteste hanno riguardato il gioco del pozzo. Non è stata un'edizione tranquilla quella del gioco del pozzo di Montevarchi. L'evento che rientra nella festa del perdono è stato infatti segnato da polemiche e tensioni. I disordini sono scoppiati durante la partita delle semifinali tra i gialli di Santa Maria e i verdi di San Lorenzo. La situazione è peggiorata quando dagli spalti è stato lanciato un oggetto. La tensione accumulata ha avuto conseguenze anche sulle fasi finali del torneo che si sono svolte ieri sera. Già prima della finale le squadre dei Rossi di Sant'Andrea e dei Verdi avevano rinunciato a giocare la partita per il terzo e quarto posto, manifestando il loro dissenso per come era stata gestita la competizione. La finale prevista tra i gialli e i blu di San Francesco non si è disputata perché anche questi ultimi si sono rifiutati di scendere in campo in segno di protesta. La decisione ultima è stata quindi quella di assegnare la vittoria a tavolino ai gialli del gonfalone di Santa Maria. Quanto è accaduto è stato stigmatizzato dal sindaco di Montevarchi Silvia Chassai Martini, che in una nota afferma che non vi è stato un atteggiamento responsabile da parte di alcuni giocatori che non hanno rispettato le regole condivise. A seguito della visione dei filmati, inoltre, sono stati individuati i responsabili dei lanci che saranno perseguiti dalle autorità preposte. L'amministrazione conclude che Chassai Martini è amareggiata per la scelta legittima ma non condivisibile delle tre squadre che hanno deciso di non scendere in campo e che hanno determinato la vittoria a tavolino dell'unica squadra rimasta. La cronaca migliorano le condizioni di Mario Agnelli, il sindaco di Castiglion Fiorentino coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Camucia, nelle Cortonese, ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena. Nella serata di ieri è stato sottoposto a TAC che è risultata negativa. Si parla di alcune costole rotte. Attualmente si trova in osservazione. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro con un'auto condotta da turisti americani. E rimaniamo a Cortona però con una notizia sicuramente migliore. Ripercorrere tutti i personaggi che lo hanno reso celebre facendo una sorta di sfida, allegria e gioia con le canzoni dell'amico cantautore. Questo è il senso dello spettacolo proposto a Cortona da Giorgio Panariello e Marco Masini. Le regole di questa sfida sono chiare. Io devo far ridere, te devi far piangere, te devi essere in preda alla malinconoia. Che cos'è questa cosa che ti metti a far ridere anche te? Alle mie spalle stanno lavorando per smontare il palco che ha ospitato fino a pochi minuti fa lo spettacolo di Marco Masini e Giorgio Panariello. Una serie di duetti tra canzoni e battute, personaggi famosi di Giorgio portati sul palcoscenico con grande disinvoltura. Tutte le canzoni più belle di Marco Masini che per inciso ha voluto fare un omaggio a Francesco Nuti con Sarà per te. Uno spettacolo con tantissime persone, praticamente sold out. Sì, una piazza stupenda, davvero composta ma tanto divertimento. Panariello è un mito insieme a Masini e siamo davvero soddisfatti. Ringrazio la Cortona Sviluppo e tutto il mio team per aver organizzato una serata non solo piacevole ma interessante collegata alla nostra Cortona Antiquaria che è la 62esima edizione. Lei ha avuto la fortuna di andare a salutare gli artisti dietro le quinte, che cosa le hanno detto? Sono rimasti soddisfatti di questa atmosfera? Sì, sono rimasti impressionati dalla piazza, sono rimasti davvero basiti nel vedere la piazza piena e soprattutto tanto entusiasmo del pubblico e penso che per un artista sia il massimo. Insomma, una serata che ha sicuramente aglietato in maniera piacevole ed anche incisiva le iniziative della Cortona Antiquaria. Uno dei personaggi tipici di Panariello. Intanto proseguono le indagini sull'anziana signora trovata senza vita nel suo letto in zona Saione. È stata disposta l'autopsia su richiesta del PM Giulia Maggiore. La data è ancora da stabilire e verrà eseguita dall'equipe di Siena. All'esame della polizia, il cellulare e i conti bancari della figlia ancora irreperibile. Ricordiamo che la donna è stata avvistata due settimane fa a Rimini. Ed è stato proiettato a Lido nella sezione dedicata ai giovani autori il docufilm per la regia di Tommaso Gorani che vede in primo piano Gioele Meoni e il suo lavoro in Africa nel nome del padre Fabrizio, re della Dakar. Un mosaico di emozioni, una storia che parte da lontano e che va a comporre un docufilm che nel giorno del suo compleanno Gioele Meoni ha presentato in anteprima a Venezia in occasione della mostra del cinema. Un sogno, come ha spiegato Gioele online, il docufilm è stato proiettato in anteprima. Nel nome del padre rappresenta un anno di riprese e di contributi per parlare di una storia vera, quella di Fabrizio e del piccolo Gioele, che alla fine riesce a partecipare e a portare a termine, peraltro con successo, primo degli italiani, la sua Dakar. Un progetto che va avanti per vendere poi la moto che sarà acquistata con i contributi della donazione, la moto con cui ha corso la Dakar, e poter contribuire a realizzare due progetti in Africa. Ne abbiamo fatte tante, molte sono raccontate qui, spiega Gioele Meoni sulla sua pagina Facebook, a proposito del docufilm. Chi lo avrebbe mai detto è andato tutto come volevo che andassi in una Dakar, è molto strano, è stata dura, ma rifarei tutto. Vedersi in terza persona in un film fa un certo effetto, però che bello. Io sono Gioele Meoni e mio padre era Fabrizio Meoni. E a proposito di Aretini a Venezia, all'Hollywood Celebrities Village, oltre ai prodotti della Valdichiana di Dante Moretti, spiccano le pizze del mulino di Rassina nel comune di Castelfo Cognano, che rappresentano la delizia dei VIP presenti al Village. Tantissimi attori, un vero successo al momento per un lavoro di gruppo che davvero sta pagando. E adesso ci concentriamo invece su che cosa succederà questa sera, subito dopo il nostro Tg. Oltre a Newsline 910, che oggi si occupa delle polemiche sul tracciato della E78, la serata proseguirà con un appuntamento speciale di Caffè Bollente. In diretta ci sarà l'analisi di quanto accaduto nella 146esima edizione della Giostra del Saracino, alle 23 in compagnia di Alessio. È tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie.